Cari amici, eccoci a un'altra puntata del nostro viaggio alla scoperta delle erbe medicinali e delle piante. Ora parliamo di una pianta molto importante, vedete questo è il frassino, è il tipo di frassino che abbiamo in Italia, il frassino eccensio si chiama, e vediamo una cosa molto interessante, abbiamo appena visto lo scorso del bosco, qui siamo a circa 1.100 metri d'altezza, una cosa interessante è come l'effetto del cambiamento climatico si percepisca osservando la tipologia di piante che stanno prendendo a piede, stanno scomparendo, pian piano stanno disseccando i pini, le conifere, e le conifere sono sostituite dalle latifoglio che sono piante che normalmente quando c'era una temperatura più bassa, qualche decennio fa, erano a latitudini più basse, a minore altezza sui monti, quindi praticamente le conifere sono sostituite adesso dagli acce e dai frassini. Il frassino è una pianta molto molto comune, è una pianta molto interessante, può crescere fino a 30-40 metri, è una pianta che ha un legno estremamente potente, tanto che i greci la ritenevano la pianta legata al dio Poseidone, il dio dei mari, da cui il fatto che con questa pianta si fabbricavano le navi e così via. Dopo c'è anche da dire, c'è tutta una ritualità con questa pianta, i druidi fabbricavano le bacchette magiche con questa pianta, però quello che a noi interessa è sapere che per esempio con una manciata, una manciata di queste foglie di frassino, mettendola in un litro d'acqua e facendola bollire, possiamo avere un decotto, dobbiamo ridurre a mezzo litro questo litro d'acqua, possiamo avere un decotto che possiamo bere, ed è un grande decotto depurativo e anche anti-aging, c'è proprio un riferito di un anziano di 107 anni che qualche anno fa gli chiedevano qual è il segreto della sua longevità e lui riferiva che era proprio nel fatto che tutti i giorni beveva questa tisana di frassino. In realtà il frassino è una grande cura per dei problemi metabolici, abbiamo parlato la volta scorsa del gelso e la glicemia, gelso e diabete, ora invece vediamo il frassino e possiamo parlare del frassino e l'uricemia, i problemi di acido urico. L'acido urico aumenta con l'età e è legato, questo aumento all'acido urico, a questa insufficienza renale che è una delle cause dell'invecchiamento e della morte, quindi il frassino lo dobbiamo vedere come grande pianta di depurazione, di stimolo della funzione renale che agisce non solo sull'iricemia ma anche sulla creatinia, sull'acido urico eccetera eccetera. E' una pianta importante di longevità, pianta importante anche come pianta amara, tutte le piante amare hanno un effetto di drenaggio sulle vie biliari e hanno un effetto molto positivo sulla digestione, non a caso è uno dei componenti fondamentali del prodotto che ho formulato io che è il digest control, il quale è prodotto assieme a delle piante tipicamente epatiche come il cardomariano, il rosmarino e così via, mette il frassino che è una pianta che stimola lo svuotamento dello stomaco, stimola lo svuotamento della cistifeglia e quindi la digestione più rapida. Diciamo che questa pianta amara quindi è pianta di grande depurazione, depurazione epatica e stimola la funzione renale e noi capiamo anche che nel momento che tu stimoli la funzione renale e depuri l'organismo, quindi per dire anche utile nell'obesità, nella cellulite, in tutte quelle forme dei dolori reumatici, i dolori reumatici non sono altro che l'artrosi e l'espressione di accumulo di tossine, in tutte queste tipologie di affezioni il frassino è molto importante per questo il frassino è effettivamente una pianta della longevità in quanto cura questi aspetti di intossicazione, di infiammazione, di insufficienza renale e di problematica articolare tipiche dell'invecchiamento. Arrivederci.